Eccoci con il sindaco di Lizzano, l'avvocato Dario Macripò, un impegno forte da parte dell'amministrazione dalle Iretta per salvaguardare l'esistenza di questo convento. È stata una decisione dell'amministrazione proprio di difendere la propria storia, le proprie tradizioni ed esaltare il valore e il significato sociale di questo convento. Sì, tieni conto anche del fatto che ognuno di noi oltre ad essere un amministratore è comunque un cittadino. Come cittadino e come cittadini, lo dico a nome un po' di tutti anche dell'opposizione, noi ci sentiamo padroni di questo convento. Cioè questo convento fa parte della nostra vita quotidiana e non possiamo pensare a una vita lizzanese senza i frati minori, quindi senza Padre Guido e Padre Pio, senza questo convento. È l'attività che tante associazioni riescono a fornire a Lizzano attraverso tutto quello che il convento nel suo complesso riesce a organizzare. Quindi Lizzano è grande, il presidente Merito Nisi diceva, Lizzano come periferia. Lizzano ha bisogno delle due parrocchie. Lizzano avrebbe bisogno anche di una terza parrocchia perché c'è una zona di Lizzano, la località di Fesola, che avrebbe bisogno anche di un ulteriore insediamento. Quindi privarla già dei due esistenti, di uno dei due esistenti, sarebbe una grave perdita.